In questo giorno ho pensato di riprendere il discorso sulla Costituzione di Piero Calamandrei, giornalista, giurista, politico, scrittore, poeta, docente universitario, oltre che occuparsi di politica. La politica non è una piacevole cosa, diceva sempre Calamandrei, però la libertà è come l'aria, ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare, quando si sente quel peso e quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per vent'anni. E che io auguro, e questo è il modo soprattutto a voi ragazzi, vi auguro a voi giovani di non sentire mai questo peso, vi auguro di non trovarvi mai a sentire questo senso di angoscia, non lo doviate mai provare, ricordandovi ogni giorno che sulla libertà bisogna avvicinare, dando il proprio contributo alla vita politica. La Costituzione, vedete, è la fine.